Ripresta dell'inflazione, una nuova impennata dell'inflazione e quindi di conseguenza pericolo rischio anche per i mercati finanziari di crashare nuovamente e questo è quello che sta circolando dalla scorsa settimana dopo i dati completamente fuori dalle stime di quello che era il tasso di inflazione degli Stati Uniti. E in questa settimana, nella giornata di mercoledì, avremo quelli che sono i verbali della riunione del FONC che è fondamentale ragazzi perché lì si capirà che cosa hanno deciso se questo rimbalzino del livello di inflazione dell'OCP della scorsa settimana che è salito, ve lo ricordo, da 6.2 di previsto a 6.4 quindi è salita addirittura di 0.2 però comunque è salita ma addirittura si aspettava sostanzialmente un po' meno del previsto proprio a causa delle parole di Powell che la scorsa settimana aveva, la settimana precedente aveva indicato il processo di disinflazione come è iniziato. In realtà questa cosa non è avvenuta ma noi sappiamo da trader che i rimbalzi anche all'interno di un trend di natura decrescente possono esserci. Quindi questo dato nella giornata del 23, del 22 di febbraio, mercoledì, quindi i verbali della riunione del FONC saranno veramente importantissimi, fondamentali per capire se effettivamente si tratta solo di uno swing a rimbalzo di un trend ribassista oppure potrebbe esserci veramente il rischio di una ripresa del tasso di infrazione. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, nel frattempo Bitcoin è stra stra forte, ancora oggi ricordo che oggi i mercati sono chiusi quindi è festa negli Stati Uniti, quindi comunque a prescindere i movimenti dei futures eccetera sono comunque non troppo da prendere in considerazione, bisognerà ragionare poi e quando insomma anche questi crimini di festa vengono meno, cioè domani in poi. Domani che è proprio il giorno teorico in cui vi ribadivo la possibilità che Bitcoin facesse la close del ciclo di natura settimanale per poi riprendere il suo percorso, cosa che potrebbe anche per fatto proprio una giornata di ieri ha fatto le cosiddette corna, no? oppure il pattern, cioè il pattern di Batman e lo andiamo a vedere proprio oggi ragazzi vi faccio vedere quelle che sono questi dati, queste indicazioni diciamo proprio su Bitcoin e sulla struttura di analisi ciclico, guardate qui dove siamo, come siamo vicini a questa zona. va bene ma prima di andare avanti iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ovviamente io la rilancio questa moneta perché da venerdì a oggi che è lunedì ha portato un po' fortuna perché teoricamente siamo riusciti a riprendere, non siamo andati down eccetera, quindi io la monetina la rilancio, poi molti di voi mi hanno detto che credono più alla monetina che ai dati oggettivi, questa cosa non è da sottovalutare e ancora una volta ci dice vai log. eh ragazzi vabbè, allora 3 su 3, vediamo se questa volta ha ragione, nuovo balzo delle cripto, questa settimana la moneta ha decretato questo dato, qualcuno di voi mi ha detto Mauro fai vedere la moneta, no non lo faccio vedere, è scaramanzia ragazzi, quindi ovviamente la moneta me la tengo per me, da quale lato esce, vi dovete fidare, vi dovete fidare che è giusto, ma vi assicuro che i rati sono due della moneta, quindi vi dico la verità. Allora, intattati a vedere i dati di natura del calendario di questa settimana, quindi le cose importanti di andare a guardare come vi dicevo la riunione del FONC, i verbali della riunione del FONC, pubblicati alle 20 orario Italia, per quanto riguarda mercoledì 22, poi c'è domani la questione delle vendita delle abitazioni, guardiamolo sì ma non è rilevantissimo in questa fase perché sembrerebbe che dalla questione della recessione, quindi dello spauracchio e recessione, adesso stiamo ritornando a avere paura dell'infrazione, quindi per una settimana o due secondo me guarderei più ai dati sull'infrazione. Poi giovedì sfilza di dati dalla tasso di infrazione dell'Europa e questo è molto rilevante anche per comprendere se effettivamente potrebbe esserci anche qui un rimbalzo. È vero che non sono correlati perché il tasso di infrazione degli Stati Uniti è iniziato a scendere molto prima, quindi non è possibile andare a vedere nello stesso lasso di tempo queste eventuali fasi di rimbalzo e pensare che insomma ci siano delle correlazioni. Poi abbiamo il PIL del quarto trimestre degli States, quindi molto rilevante anche in questo caso, le richieste di sussidi di disoccupazione che sono ancora troppo basse ragazzi, quindi vi ripeto qui anche se non sembra ma devono salire, detto così proprio mi sembra di essere un po' contro diciamo l'economia, però è in questo momento importante che salgano un po', detto così insomma è in questo modo. Poi venerdì abbiamo l'indice dei prezzi delle spese personali, anche questo è un dato rilevante perché per esempio un rallentamento quindi dei prezzi delle spese personali potrebbe essere comunque anche anticipatorio un po' di quello che è il generale, il paniere del tasso di infrazione, non è molto rilevante però insomma valutiamolo ragazzi. Quindi secondo me accentrate la vostra attenzione sulla riunione, sui verbali della riunione del Fonca il 22 e sul PIL il giovedì 23 e le richieste di sussidi di disoccupazione. Quindi questi due dati per me, queste due giornate sono quelle fondamentali. Detto questo passiamo all'analisi ciclica e tecnica dei mercati delle cripto iniziando proprio dall'analisi di Bitcoin. Analisi ciclica di Bitcoin indica che sul minimo del scorso lunedì 13 febbraio è iniziato un nuovo ciclo mensile di Bitcoin. I due precedenti cicli di Bitcoin erano stati da circa 39-45 poi a seconda delle diverse centrature è poco rilevante. In ogni caso abbiamo un trimestrale da 84 giorni che si è concluso il lunedì 13 febbraio. Da qui è iniziato probabilmente un nuovo ciclo mensile ma in concomitanza anche il successivo ciclo da 70-90 giorni che io posizionerò a 85 e che porta al minimo di maggio. A proposito, mi avete dato un po' tutti la conferma della famosa video, cioè la complottista del minimo di maggio. Andiamo a fare questo video in questa settimana, già ve lo anticipo quindi ragazzi mi raccomando pronti e aggressivi su questo video che può essere interessante. È un video un po' così no? Di riflessione e non proprio ipertecnico però sarà molto interessante andare poi a vedere quest'altra teoria. Allora qui nella questione dei livelli di resistenza bla 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 tutto resta identico ragazzi. Il livello di resistenza è questa fascia di prezzo che vi ho indicato qui e il mercato non si schioda. Cioè questa fascia di prezzo che va da 24-5-24-6 fino a 25.600k. Questo è dollari scusate, questo è molto rilevante, è una fascia di prezzo molto rilevante. Perché? Perché al di là di quel livello di prezzo il mercato, come vi dicevo e ci aspettiamo un po' tutti, potrebbe accelerare bruscamente al rialzo, bruscamente anche nell'arco di 1-2 giorni, fare un'app che da questa zona in pratica ragazzi poi se ne va direttamente a fare un touch dei 28.000 e 3. Cioè fare una cosiddetta impennata come la cosiddetta regola della molla, una molla che viene compressa in una barra di congestione come questa che abbiamo teoricamente da giugno, siamo ancora in barra di congestione, non è un trend di lungo periodo. Questo qui è una barra di congestione, seppur vero che qui esiste una specie di inversione palese. Il breakout confermato dell'ultimo baluardo che blocca Bitcoin all'interno del precedente trend del bear market, sancirebbe la conclusione del bear market dello scorso anno, non vuol dire che da qui si sale e basta, vuol dire che il trend dello scorso anno è sicuramente finito e siamo in un nuovo trend. Che poi questo nuovo trend possa essere nuovamente ribassista è corretto, perché il precedente vedete che era stato qui aveva fatto comunque una parte up e poi tutto il bear market. Ora se noi brecchiamo questo livello e ci posizioniamo qui, a livello statistico, questo struttura, questo insieme di prezzi che vedete in questa zona viene totalmente cancellato, non esiste più. Quindi questo trend non sarà più parte del precedente movimento al ribasso, ma sarà un nuovo movimento che potrebbe svilupparsi come una bull run, potrebbe svilupparsi come un trend che fa questo tipo di discorso, quindi un altro bear market, o potrebbe svilupparsi in barra di congestione, appunto come le tre possibilità di tutti i trend. Quindi non sappiamo ancora come si andrà a sviluppare questo nuovo annuale, se sarà confermato, però sappiamo che non appartiene più al precedente bear market, e che quindi la possibilità di attenderci anche prezzi interessanti, magari non iperbolle eccetera, ma interessanti è possibile, quindi possiamo attendercelo. Ecco, questo è il dato molto rilevante. Se non che, ragazzi, c'è anche un dato di breve periodo che voglio con voi condividere, cioè la ciclicità di Bitcoin in termini di un ciclo inferiore, che è un cosiddetto ciclo settimanale, che teoricamente dura intorno ad otto giorni. Ora, ragazzi, più andiamo a scendere con i cicli, peggio è perché sono molto più rumorosi, è più difficile individuarli, sono pieni di errori, quindi sostanzialmente ragioniamo in termini di tempo, però su alcuni cicli, quelli proprio bassi, dovete prendere ogni cosa con le pinze, perché non è proprio, sono cicli abbastanza rumorosi. Ecco, questo volevo dirvi. Allora, qui nella giornata di ieri è stato fatto un minimo, e teoricamente questo ciclo, che potrebbe durare appunto una settimana, che è un ciclo di circa otto giorni, barra sette giorni, qui ha fatto sette giorni, quindi potrebbe essere sufficiente. E' anche vero che essendo un ciclo teoricamente un po' rialzista, e che essendo questi sabato, domenica e oggi lunedì, ma con America un po' in festa, diciamo così, questo dato potrebbe un po' essere un po' non del tutto preciso. Quindi io teoricamente fino a domani, come vi dicevo, 21 di febbraio, e anche a questo punto un lasso di tempo, glielo darei a Bitcoin stesso, quindi da domani un paio di giorni, a meno che appunto non si va a breccare questa fascia di prezzo, per la chiusura di questo ciclo la metterei in conto, cioè potremmo stare ancora in questa fascia del ciclo, che sta tentando di chiudere, prima di iniziare una nuova fase. Anzi, vi dirò la verità, preferirei che fosse proprio così, preferirei vedere ancora a testa, finora il mercato non mi ha contraddetto, quindi è rimasto sostanzialmente nella sua barra di congestione, ha provato nuovi minimi, ma ha subito recuperato, non sfonda la resistenza, ma non scende neanche. Quindi in pratica si è chiuso in una barra di congestione, di riflessione, che è adatta per far scaricare tutti gli indicatori di analisi tecnica, che RSA in primis, eccetera, quindi per comprato in sostanza, e poi riprendere con calma un nuovo trend. Vi ribadisco poi per un'analisi di medio-lungo, che qualora sul minimo del novembre 2022 sia iniziato un nuovo ciclo annuale, questo è il secondo ciclo trimestrale del nuovo annuale. È improbabile che il mercato inizi a scendere all'interno di questo ciclo, quantomeno se non fino a questa zona qui, cioè ad aprile. Perché se siamo in un nuovo annuale ancora la spinta di fase al rialzo è molto forte, quindi vedere un asset che in un nuovo annuale inizia a scendere nel secondo ciclo trimestrale vuol dire che è molto debole e quindi bisogna poi mettere in conto anche eventuali break del minimo di novembre. Quindi questo ve lo dico, poi lo valuteremo. Al momento Bitcoin è iperforte, non ha minimamente ceduto ai suoi trend, ha fatto anche questa chiusura bellissima, sono sincero, del ciclo trimestrale da manuale, che ci ha dato il nostro buy the dip da manuale, ragazzi. Quindi qui adesso si tratta di capire se ce la fa e poi andiamo a, magari verso marzo o quant'altro, a raggiungere questi 28.000. C'è da dire che, essendo che il mercato, questi 28.000 li potrebbe fare veramente in un nanosecondo, ve lo dico in maniera proprio chiara, perché qui, ragazzi, non c'è assolutamente niente, non ci sono resistenze, allora è anche vero che, se brecchiamo troppo presto, nulla vieta a Bitcoin di spararsi. Questo più 13% nell'arco di due giorni è fine dei giochi. Quindi questa cosa è molto rilevante da andare a valutare. Vedremo come si sviluppa questo trimestrale, lo ribadisco e lo continuo a ribadire, l'unica posizione attualmente assumibile sul mercato, come vi sto dicendo, da dicembre in poi, è solo long, non c'è short, quantomeno nel medio periodo. Nel breve, brevissimo periodo, sì, perché? Perché semplicemente, ragazzi, andate a fare trading, e trading è gestito in uno o due giorni, ma nel medio periodo, non dico lunghissimo, ma nel medio periodo, l'unica posizione attualmente assumibile è il long. Perché se andate short, andate contro trend, questo lo ribadisco. È anche vero che si può gestire uno short, magari proprio sul fatto, è l'ipotesi che Bitcoin non riesca a breccare questo livello, quindi, ok, voi dite, non ce la fa e ritorna a scendere, magari scende qui. Ma l'unica possibilità, affinché uno short in questo punto possa essere veramente proficuo, è che da qui non è iniziato un nuovo annuale. Quindi se da qui non c'è il nuovo annuale, questo è uno short che è molto proficuo, perché faremo una cosa del genere. Ma se qui abbiamo listato il nuovo annuale, qualsiasi tipo di operazione in short selling assunta all'interno di questa range di prezzo, avrà il tempo contrario, quindi avrà in pratica le gambe corte. Ciò significa che vi assumete un rischio abnorme di prendervi un pampone come un 10% in un'ora in faccia, e invece l'eventuale profit potrebbe essere estremamente ridotto. Quindi il rischio di rendimento è un'operazione che non sta in piedi tra le altre cose, ragazzi. L'unico motivo che potrebbe mandarla in positivo è un annuale ancora da chiudere, quindi iniziato a giugno, completamente ribassista e bla bla bla. Per il resto non c'è soluzione, perché siamo su un nuovo mensile, su un probabile nuovo annuale, e un probabile nuovo trimestrale. Quindi assumete posizioni a favore di trend, trend is your friend. Ve lo dico da quando ho aperto il canale. Va bene, detto questo, andiamo a dare una carrellata a quello che invece è la struttura di Nasdaq. Come vi dicevo, mi aspetto che Nasdaq 100 vada in addirittura di arrivo di questo minimo, a chiudere questo ciclo trimestrale suo intorno alla prima decade di marzo, e se dovrebbe proprio star facendo questo. Quindi mi aspetto una congestione, ragazzi. Cioè una perdita di tempo. Più perde tempo, meglio è, perché non voglio che scenda di prezzo. Attenzione, perché da questo trimestrale in poi è molto rilevante andare a comprendere se il mercato brecca questo livello, perché anche Nasdaq, sopra questo livello, 12.900, quindi 13.000 punti, e sopra questo, 13.800, indica che qui è iniziato un nuovo annuale. E quindi anche in questo caso, per quanto possa verificarsi il cosiddetto annuale cammello, che ormai dal mio video avete iniziato a comprendere, quindi la struttura di una nuova ciclicità che possiamo portarci per i prossimi mesi, barra anche un annetto e passa. Fatta in questo modo, vediamo che qui c'è già una forma, no, di cammello abbastanza visibile, cioè questo tipo di discorso, poi adesso ve l'ho fatto proprio un zigzag preciso, potrebbe essere verificato, però magari ancora fino ad aprile abbiamo l'infa per galoppare e cavalcare questo trend. Quindi ancora Nasdaq deve mettere, diciamo, un po' la sincronia. C'è anche da dire che Bitcoin si è decorrelato da Nasdaq un po' negli ultimi mesi. E questo è molto rilevante, perché, vi do una chicca, anche su questo, ragazzi, fa delle tesoro, durante l'inizio di nuovi cicli probabilmente i mercati si decorreranno tra di loro. Alcuni asset cambiano la loro forma. I cicli non sono solo movimenti erratici e basta, ma hanno anche una struttura interna e quindi spesso può capitare che proprio l'inizio di un nuovo ciclo importante modifica i comportamenti dell'asset. E in questo caso noi stiamo vedendo in effetti che Bitcoin è decorrelato a Nasdaq, cioè la correlazione, non è decorrelato, ma la correlazione che era molto alta, 0, quasi 0,6, 0,5, si sta riducendo. Quindi è ancora correlato in termini di lungo periodo, ma nel brevissimo ha una sorta di correlazione negativa perché la correlazione si sta appiattendo, sta tornando verso lo 0,3, la naturale correlazione Bitcoin-Old Market, quindi start and repulse 500. Molto interessante questa cosa da andare a guardare. Concludiamo il video con un'occhiata a quest'ultimo grafico che poi riprenderemo nel video di mercoledì. Boom ragazzi! Allora questo è un grafico che non guardiamo mai. C'è la questione legata all'eventuale tasso di inflazione. Degli Stati Uniti, questo è l'indice del dollaro di XY, che è un indice della forza del dollaro rispetto alle altre monete. Interessante andare a guardare perché ha una ciclicità imponente e oltre a questo problema ha anche un vantaggio informativo in quanto ragazzi, quello che è il valore della moneta è manipolata totalmente da quello che sono le decisioni delle banche centrali. Ciò significa che se la banca centrale nel lungo periodo ovviamente va a agire sulla valore della propria moneta questo grafico si muove e quindi possiamo anche un po' prevedere quelle che sono le mosse della Fed. C'è da dire ragazzi che vi faccio vedere questo super ciclo da 5.761 giorni che è un ciclo abnorme da circa 16 anni. più o meno è il ciclo da 16 anni del mercato e si sta andando a chiudere, si dovrebbe chiudere intorno alla fine di quest'anno. Quindi il problema è dopo ragazzi, dopo qui, perché potrebbe, insomma, potrebbe avere una nuova ripresa di un ciclo molto importante, cioè un ciclo veramente imponente che l'ultimo era partito nel 2008 di dollaro. Quindi facciamo molta attenzione a queste cose, soprattutto a dare il dollaro spacciato ragazzi, perché non è quello che dicono i grafici al momento, poi magari qui succede un disastro e allora ok. Però nell'ultima fase, andando più nello specifico, nel piccolo, il DXY ha iniziato un nuovo ciclo annuale, probabilmente proprio a gennaio, ed è molto tempo. questo ci sta perché visto che siamo alla fine di un ciclo imponente da 16 anni, potremmo avere una cosa del genere e poi ricominciare in pratica la struttura al ribasso di DXY, che non vi nascondo, mi aspetto chiudere questo ciclo, che dovrebbe essere intorno ai 350, un po' più piccolo degli altri due, al di sotto del minimo precedente. me lo aspetto debole. Ciò significa, in termini pratici, che in questa fase, probabilmente, un'impennata dell'inflazione è vista e quindi, ancora una volta, un rialzo dei tassi della Fed un po' fuori dalle aspettative che va a far alzare questo grafico. Questo grafico si alza quando la Fed aumenta anche i tassi perché aumenta il potere del dollaro, quindi aumenta la forza del dollaro. Però poi, da qui alla fine dell'anno, mi aspetto che ritorni un po' di debolezza. Quindi, o una barra di congestione o comunque una struttura discendente. Non è calatante, ma discendente. Ciò significherebbe che ancora c'è molto da dire per esempio sull'andamento degli asset nel 2023 e che forse, se guardiamo questo grafico, potremmo anche auspicare ad un andamento dei prezzi degli asset migliore di quello che ci aspettavamo proprio all'inizio dell'anno. Non è confermato nulla perché questa è un'idea generale perché come vedete al momento il trend qui è rialzista però sono tre settimane molto deboli e questo grafico però ci dice che sostanzialmente se qui siamo veramente in una fase ciclica ben centrata come quella che vi ho fatto vedere ebbene nell'arco di quest'anno 2023 forse, forse dobbiamo stare attenti a sottovalutare gli asset finanziari come cripto e tecnologici perché potrebbe essere che il dollaro sarà molto debole e se fosse così aspettatevi una impennata dei prezzi soprattutto di bitcoin perché i prezzi di bitcoin delle cripto noi li misuriamo in dollari quindi se scende il valore del dollaro al di là dell'incremento del valore di bitcoin sale comunque la valorizzazione giochino legato alla frazione. Detto tutto ci vediamo mercoledì e buon inizio settimana ciao